Maria Teresa noi siamo pronti a salpare o meglio Germana soprattutto è pronta a salpare al mio berretto bene 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 allora le auguriamo buon viaggio e sentiamo dove ci porta questo sabato e poi ci risentiamo dopo naturalmente tra pochissimo tanto voi state con me sempre nella noi stiamo con te non ti possiamo lasciare sola assolutamente allora iniziamo Radio di Bordo il mare e le sue storie allora sapete bene quanto stia a cuore a noi di Radio di Bordo la salute dei mari e oggi vogliamo iniziare la nostra puntata proprio parlando di un progetto tutto toscano che si chiama Isolem isola ecologica marina con noi c'è Paolo Sartor che è ricercatore del centro di biologia marina di Livorno ben trovato Paolo buongiorno com'è il tempo intanto lì da te perché io qui ho detto che a Roma c'è uno spiraglio di sole assolutamente no qui è bruttissimo sta piovendo da da stanotte in maniera molto forte ma infatti le previsioni quello danno purtroppo senti parliamo del vostro progetto interessantissimo in cosa consiste? Allora è uno dei tanti progetti che da qualche anno si stanno realizzando in varie parti d'Italia questo è un progetto che nasce da un'iniziativa del FEAM perché il fondo europeo gestito anche dalla regione toscana è un progetto coordinato che ha visto a Viareggio un tessuto buono perché a Viareggio c'è la cosiddetta cittadella della pesca un'organizzazione dei produttori che raccoglie diversi pescatori a strascico quindi grazie alla loro disponibilità iniziativa si è fatto rete con la municipalizzata la SEA un'altra azienda si chiama Navigo che ha curato tutta la parte della divulgazione i ricercatori del CBM che ora presento e della cooperativa Plisia e niente abbiamo messo su un progetto anche in questo periodo difficile per sensibilizzare l'opinione pubblica e anche per responsabilizzare i pescatori a raccogliere i rifiuti dal mare chi meglio di loro che tutti i giorni a raccogliere i rifiuti. Quanti pescherecci hanno aderito? Allora hanno aderito otto pescherecci che è un buon numero perché si tratta di un progetto pilota noi volevamo innanzitutto elaborare un modello per poi renderlo continuativo e magari anche esportarlo a altre realtà più ampie della Toscana. Infatti il vostro progetto è proprio integrato cioè vuole mettere insieme più persone più attori allora uno di questi attori coinvolti nel progetto uno dei comandanti dei motopescherecci che si chiama Marco Tremarolli comandante del motopeschereccio Sofà ci ha spiegato i motivi per cui ha aderito. Sentiamo. Perché da quando vado in mare si prende tanto sudicio in mare quando mi hanno detto se volevo aderire a una costa del genere che pulisce il mare sono stato molto contento di farlo anche perché il mare è la mia vita faccio pescatore sicché lo devo lo devo salvaguardare. Il mare è diciamo che è l'immondizia del mondo tutto quel che c'è va a finire in mare. In questa campagna almeno io personalmente facevo dai dai 5 a 10 chili di plastica al giorno. Qual è la cosa più strana che hai trovato in mare nei tuoi anni di lavoro? Negli anni che ci sono stato in mare è quasi 35 anni abbiamo trovato di tutto. Barche a fondo pezzi di ferro, mine, bombe, siluri. La cosa più strana che mi ricordo era una slot machine di quelle dei casinò. I tuoi colleghi pescatori come si stanno approcciando a questo progetto? C'è gente che già da diverso tempo che leva il sudicio dal mare però il problema è che prima c'avamo dei bidoni giganteschi che si buttava tutto lì dentro e non c'era problemi. Allora da quando hanno messo la differenziata prima di questo progetto qui non sapevamo più dove buttarla perché abbiamo dei bidoncini piccini come alcuni delle case e sicché con questo progetto qui la gente ora sa dove poter buttare il sudicio che peschiamo in mare. Ora è rifiuto speciale non lo puoi mettere nei bidoni normali sicché ben venga. Paolo Sartol del centro di biologia marina di Livorno abbiamo sentito una slot machine ma come può venire in mente di buttare in acqua una slot machine? La slot machine sarebbe veramente una lunga lista tutti la diversificazione e anche cose impensabili. Ora i pescatori di Viareggio lavorano in una zona veramente a ridosso di un'area frequentata da turisti ci sono sbocchi dell'arno del cerchio quindi apporti fluviali c'è veramente di tutto. Tempo fa che l'operazione della marina militare con le eco balle no? Esattamente questo è un altro problema tra l'altro noi con le nostre ricerche siamo stati tra i primi a recuperare un'eco balla un paio di anni fa in questo caso si parla del golfo di piombino del canale di piombino e questo è un altro problema molto grande perché in quel caso la plastica è estremamente compattata perché le eco balle sono dei cubi di plastica stipata sono decine e decine di chili che finché se ne stanno ferme sul fondale tanto tanto ma quando poi con il tempo venissero liberate diventa veramente una bomba ecologica. Con il vostro progetto Isolem che percentuale che quantità proprio di plastica pensate di riuscire a togliere dal mare in un anno? Ecco il nostro progetto serviva anche per questo per darci un ordine di grandezza dei quantitativi. Abbiamo stimato ovviamente si parte da un progetto pilota che come ha detto anche Marco pescatore che tra 4 e 5 kg al giorno di rifiuti in generale essenzialmente plastica possono essere rimossi. Ora se noi pensiamo che un peschereccio medio fa una 150-140 giornate all'anno che a Viareggio ci sono 40 pescherecci basta fare delle moltiplicazioni e già si arriva a 25-30 tonnellate all'anno. Pensiamo alle 120 barche della Toscana e già si arriva a 80 tonnellate all'anno. Se poi invece pensassimo a tutta l'Italia i numeri sarebbero enormi. E so che è anche l'obiettivo del vostro progetto anche allargarvi, coinvolgere più pescatori possibili, ampliare anche le isole ecologiche nei porti. Assolutamente, ora noi non abbiamo ovviamente inventato nulla perché già in Toscana ma in altre regioni ci sono già iniziative che sono simili alla nostra che stanno andando in maniera più che soddisfacente quindi l'auspicio è questo, che diventi veramente un qualcosa di stabile, che diventi sia per monitorare ma soprattutto per pulire il mare. Più ce ne sono e meglio è assolutamente. Allora grazie mille a Paolo Sartor, ricercatore, biologo marino del Centro di Biologia Marina di Livorno. Grazie a voi.